Alle nostre spalle la bolla Covid del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Qui ci sono ancora oltre 40 pazienti ricoverati. Ne abbiamo parlato con il direttore Danilo Tacconi per capire qual è la fotografia di oggi appunto dei malati Covid e soprattutto quali sono le armi in mano ai medici. Ma noi ancora purtroppo abbiamo ancora dei casi impegnativi dal punto di vista respiratorio. Quindi a prescindere dal fatto che Omicron è appurato, che probabilmente è meno patogeno, meno cattivo rispetto a Delta e alle altre precedenti varianti, però diciamo su persone che o non sono vaccinate o che hanno comunque problemi di immunodepressione o che hanno fatto il vaccino da ormai troppo tempo, anche Omicron dà segno di sé. Dal punto di vista delle cure, quali sono le armi che avete oggi tra le mani? Purtroppo noi ci eravamo lasciati poco dopo la metà di dicembre con un grido d'allarme che era quello della carenza degli anticorpi monoclonali efficaci su Omicron. Per fortuna già da ieri noi abbiamo avuto un approvvigionamento a livello nazionale quindi con una ridistribuzione per numero di casi, per utilizzo che era stato fatto nel passato con i monoclonali per cui la provincia di Arezzo ha a disposizione in questo momento quasi un centinaio di fiale che abbiamo già da stamani iniziato a riutilizzare. Ma oltre questo da una decina di giorni abbiamo la possibilità di prescrivere l'antivirale orale nel caso specifico il monopiravir che abbiamo già utilizzato in una quarantina di pazienti devo dire al momento anche con risultati buoni nonostante dagli studi e dalle evidenze preregistrative sembra avere una efficacia leggermente minore rispetto ai monoclonali. Un pochino di cautela ancora io ce la metterei quello che chiamo buonsenso perché non si tratta ancora di un'influenza perché di ricoveri ne fa più di un'influenza normale di quelle che abbiamo avuto negli scorsi anni di morti purtroppo ne fa più di un'influenza normale perché giornalmente i decessi sono ancora abbastanza significativi seppur in proporzione al numero di casi presenti in tutta Italia come rapporto non altissimo probabilmente tra un po' di tempo diventerà endemico e allora lo considereremo come un'influenza ancora no